Gli ulteriori 12 casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo fanno salire il dato complessivo dall'inizio dell'emergenza a quota 3.148. Il dato odierno si riferisce a 1.254 tamponi analizzati, 0,9% di positivi sul totale, in leggero rialzo rispetto alla giornata di ieri, quando i positivi erano stati 9 su 1.310 tamponi analizzati, 0,7%. 205 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.243, meno 18 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 381 pazienti deceduti, più 2 rispetto a ieri, mentre 1.313 sono invece i dimessi e i guariti, più 38 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.454, con una diminuzione di 28 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 783 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1.474 alla ASL di Pescara e 645 alla ASL di Teramo. I 12 casi di oggi sono così ripartiti, 7 nella ASL di Pescara, 5 in quella Lanciano-Vastochieti. Non ci sono nuove positività che facciano riferimento invece alle ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Teramo.